rendete conto che anche qua che anche qui qui in questo momento anche qui c'è qualcuno dell'opposizione che ha avuto il coraggio e al coraggio di dire che colpa della meloni che colpa del governo della repressione di questo governo sì ma porca miseria ne frega niente a questi del paese guarda raga non gliene frega nulla niente 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 compreso quelli che passano gli screenshot al fatto quotidiano madonna mia poi parleremo di sta roba perché io pensavo fossero più giornali e invece fatto quotidiano c'è gente che non è in realtà nemmeno di destra cioè sono lì perché ah sai quattrini che arrivano a fine mese sono tanti e sto a posto praticamente mezza vita almeno quindi a posto così insomma divertiamoci divertiamoci non gliene frega niente a questi nulla niente gliene frega proprio niente niente di niente ecco qua che anche per quanto riguarda questo addio che alla fine non ha niente a che fa con la politica due anni di liti interne due anni di scioperi di ogni tipo una cosa del tech che ci teneva tanto anche john elkan e che poi è stato un immenso flop perché c'è stato uno sciopero un danno economico ingente per quanto riguarda l'attestata giornalistica perché qui stiamo parlando dell'attestata giornalistica un'attestata giornalistica di sinistra con un suo addio ufficiale il coraggio di innovare e di cambiare che non è stato apprezzato no semplicemente io credo che sia una questione che un giornale nazionale non possa far far l'unità della situazione perché l'unità appunto già di sinistra si capisce ma qui per la repubblica che comunque è sempre stato filo di sinistra ma qui era estremista anche con notizie accusato più volte false corredate e questo è solamente l'albero guardare l'albero e non la foresta cioè anche il pd non tanto la shrine per quanto riguarda l'addio anzi il siluramento da parte il nuovo board del direttore molinari che ha fatto tanto rumore ma è una cosa che si sentiva e si sapeva da tempo cosa cosa dice cosa dicono alcuni che colpa della meloni perché ha fatto delle pressioni in merito a stellantis e prima ancora no invece mica dicono che ci sono stati delinti interne e hanno scioperato proprio per causa molinari perché non volevano più molinari come direttore i dipendenti interni ma come fate a deviare così la realtà me lo insegnate anche a me perché io non non sono capace sinceramente non sono capace